BNL ha presentato il suo progetto relativo alla rete dei promotori finanziari e la domanda è per quale motivo Life Banker? Perché Life Banker? Life Banker è un brand che è soltanto il frutto e la conseguenza della nostra idea. Noi da subito siamo partiti pensando ad una promozione finanziaria per la quale tutta l'offerta di prodotti e di servizi di BNL del gruppo BNP Paribas fosse una componente fondamentale e indispensabile per il promotore finanziario per ampliare i propri servizi e per ampliare la propria possibilità di ascoltare e di risolvere i bisogni della propria clientela sia questa clientela privata, famiglie o imprese. E abbiamo pensato ad una promozione finanziaria che da subito fosse un'opportunità indispensabile sia nel breve periodo che nel lungo periodo per la crescita di BNL, delle proprie agenzie e del gruppo BNP Paribas in Italia. Abbiamo pensato quindi a un promotore finanziario che fosse davvero un consulente a 360 gradi per il proprio cliente, ripeto sia questo privato che aziende, in ogni momento della sua vita e lo fosse potendo offrire tutti quelli che sono i servizi di un gruppo come il nostro. Di qui Life Banker, Banker della vita, di tutti i momenti della tua vita e della vita sia come privato che come imprenditore che della vita aziendale. Un progetto che comunque si inserisce nel gruppo in sintonia sostanzialmente con l'intera struttura del gruppo BNL BNP Paribas? Assolutamente sì, come dicevo prima la struttura e tutto il gruppo vive la nascita della promozione finanziaria come un'opportunità che diventerà un'irrinunciabile opportunità per sviluppare la propria crescita in termini di quote di mercato su tutto il territorio nazionale ma anche per servire la propria clientela con un nuovo modello di servizio che è appunto quello della promozione finanziaria che tanto successo sta avendo in Italia e che ha dimostrato di saper superare, anzi direi cavalcare le problematiche che ha vissuto un po' tutto il mondo della finanza e delle banche in questi ultimi otto anni. La ringrazio per la sua disponibilità. Grazie a voi. Grazie.